Allora, magico ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un'altra puntata di giochi brutti, mi state prendendo per il culo vero? Non è questo, non è questo! Però questo gioco, vi avverto subito, non credo che sia un gioco, credo che sia proprio un delitto verso l'umanità e diciamo una tortura cinese per le persone. Allora, non credo neanche che ci sia un titolo per questo gioco, adesso che ci penso, perché qui io vedo 3000 scritte ma non vedo... ah instruction, allora vediamo instruction, qui c'è una cacca credo, o una polpetta, non capisco. Ah ok, quindi siamo partiti con questo super gioco, allora siamo questa bottiglietta e questo cacchino, credo, e dobbiamo saltare col tasto spazio, qui adesso c'è una cosa rotonda, ah ecco che ci blocca ovviamente, siamo bloccati, quindi saltiamo, andiamo avanti, se schiacciamo altri tasti a caso, ecco, se schiacciamo tipo questo tasto la cacca fa un un giro della morte, su questa bottiglietta, sì, devo dire che questo gioco veramente, questo gioco è una merda, c'è pure la merda cazzo all'interno di questo gioco, non capisco, sto provando i tasti a caso, tanto, tanto non credo che, vabbè fa niente, ehm, submit score, non capisco proprio cosa, c'è veramente, ah ecco vedi, c'è un altro coso qua, quindi lo devo saltare, benissimo, ragazzi, io non sto scherzando, il gioco è questo, io sto piangendo in questo momento, perché sto capendo perché giochi come Goat Simulator sono andati di moda, ecco, perché se questi erano giochi che gioco, adesso è un simulatore di camminamento di una bottiglietta di fast food e una merda, credo, una pupù che rotola, cosa sto facendo? Ho schiacciato tutti i tasti della tastiera in questo momento, ma non è successo nulla, come vedete, se si può uscire da qui, no, non si può neanche uscire, quindi ragazzi, non posso neanche bloccare il gioco, perché veramente, io veramente, sono magici triste, perché non credo che, come cazzo è possibile una cosa del genere, non è possibile, non è possibile, che cacchio è sto gioco, score, ma che cazzo di score è questo, scoreggia, score è il diminutino di scoreggio in questo gioco, progress, progresso all'indietro proprio, le scimmie hanno fatto questo gioco, ho schiacciato tutta la tastiera, non è possibile, come passa? Ragazzi, questo gioco, devo dire che è stato forse la cosa più brutta che io abbia mai visto in tutta la mia vita, il gioco più brutto del mondo, basta, è questo il gioco più brutto del mondo, non ha senso, sto camminando, cammino, 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 e arrivo dal mio vicino, ciao, ciao.